Cresce l'aliquota ordinaria del Limo a Quarna sotto. L'amministrazione comunale ha annunciato l'aumento di due punti percentuali dell'imposta nell'assemblea pubblica convocata negli scorsi giorni. Si passerà dal 7,6 per 1.000 al 9,6 per 1.000 con un incremento del guadagno annuo del comune pari a 30.000 euro. Si tratta di una decisione che prendiamo a malincuore mai divenuta ormai necessaria visto che le risorse in cassa sono sempre meno, ha spiegato l'assessore al bilancio. Dal 2009 al 2018 le risorse erariali a disposizione sono scemate da 165.000 a 52.000 euro. L'entrata maggiore per il comune è rappresentata proprio dall'Imu. Il nuovo tariffario andrà a conformarsi con quello delle altre realtà che ci circondano. Inoltre nel 2019 verrà adottata anche a Quarna sotto la tassa di soggiorno. Si è parlato anche di altro nel corso della riunione, ad esempio di piccole manutenzioni e di viabilità. Sul secondo argomento il sindaco ha annunciato che prenderà dei provvedimenti se le macchine rimarranno parcheggiate costantemente in diveto di sosta. Sto valutando di chiedere ai comuni limitrofi tipo Megna o Casale Cortecerro una convenzione per avere una volta a settimana a disposizione un loro vigile urbano per far rispettare le regole in paese, ha affermato. Ultima novità, a breve poste italiane dovrebbe installare uno sportello postamat in quel di Quarna sotto.